Al San Paolo di Napoli, Napoli 1, Juventus 0, il termine del primo tempo, perfette le condizioni del campo, arbitra Lobello. Ed eccovi rapidamente la cronaca, Juventus contro Sole. Al primo punizione per il Napoli, tira Sormani, devia Ghio in tuffo para Tancredi. Il Napoli continua a prevalere nelle azioni d'attacco e al decimo altro cross di Sormani, Morini si salva in angolo. Il sedicesimo su punizione battuto da Haller, Anastasi manda fuori di testa e di testa su cross di Monticolo, manda fuori anche Altafini subito dopo. Al ventunesimo su punizione di Cappello, Zoffe interviene senza difficoltà. Allo spirale del tempo al gol del Napoli, è stupendo, tira una punizione Sormani, a sinistra il suo tiro, Arquato fa giungere il pallone sulla testa di Pogliana che giunge in corsa sulla destra. Tuffo del terzino e rete irresistibile.